ciao a tutti amici del darkstorm siamo qua ad anversa post euro stiamo avrendo 60 ots vinte da michael side event mega regional buonasera bustine si spera di schiappare ovviamente per schiappare si qui è l'ot s14 si trova il regno si trova lì per poi vogliamo le altime ci piace beh sui 63 o 4 c'è caso di buddha ma io sto trovando solo tu non essersi fatto un mezzo io sto tirando fuori solo i tocchi io ho sbustato il playset di lotus io ho sbustato il playset di lotus e nibiru vogliamo altre altre mi spero questo è buono oh è buono il boidogra oh è seed basta token oh li vanno due il token maggi dolce questo faceva questa è bannata è sotto a tutto maic no no mi fermo al culo è da sotto lo vedo eccolo vesti il mondo lascia lì no vogliamo un'altra vai gra che apri questa madonna mi hai impedito si sono tanti le salte vabbè era fuffa sono exibili ho paura di lotus basta basta sto red sì ma almeno altre due manca una questa è mia questa matica eccola basta hai rotto il schiazzo sì bellissimo basta ma che servivano i red lotus speriamo a me servivano eh vi rivederò almeno tre no ragazzi vai questa sbustata per me è più di mezzo box è più di mezzo box anche quella niente niente per me ancora tanto sei prestato comunque ti è comunque sei lento chi sei lento beh in ogni cosa della sua vita vado tu non la metti via ma è molto più bella di ah vinto ma l'ho visto eh roma questa qualcosa non c'è solo ma una ventina costa ma è però c'è nibiru c'è nibiru c'è nibiru c'è nibiru altrimenti quanto sta centello non è minta è inglese non mi deludere io voglio dire quante sì in inglese sì in quella di pierre mettete pierre un altro redone e abbiamo la combo però abbiamo tanti di questi oh questa 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 è bandita a strappo no è bandita sì io avevo una combo con questa parallax sì dai playset mi serviva non ho proprio adesso per te vado a questa puoi mettere questa esatto dov'è scuoli ti prego non c'è niente è ben 50 di questi dai è un segno 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 l'ultima questa è l'ultima ragazzi non c'è più nessuna zero zero tutto che vuole lo sbusserà c'è niente vai una siamo a posto così dai che tristezza che tristezza c'è un dico passa non è mio presegnato